La corruzione non macchia solo le pagine della storia, ma prolifica ancora oggi sui giornali con le storie di quanti hanno la responsabilità di amministrare i beni del popolo. Alla messa, Santa Marta Papa Francesco è partito dall'odierno Vangelo di Luca per riflettere ancora una volta sulle tentazioni che illusingano il cuore dell'uomo. Dinanzi ai tanti corrotti, molti dei quali si dicono cristiani, dinanzi al diavolo che conosce le debolezze di ciascuno, il pontefice ha invitato tutti a coltivare un fiuto cristiano anzitutto stando attenti ai segni del tempo e poi riflettendo e pregando. Preghiamo oggi al Signore che ci dia questa grazia di essere furbi, furbi cristiani, di avere questa scaltrezza cristiana. Se è una cosa che il cristiano non può permettersi è di essere ingenuo. come cristiano abbiamo il tesoro dentro, il tesoro che è lo Spirito Santo, dobbiamo custodirlo. E un ingenuo lì si lascia robare lo Spirito. Un cristiano non può permettersi di essere ingenuo. Chiediamo questa grazia della scaltrezza cristiana, del fiuto cristiano. e anche è una buona occasione per pregare per i corrotti. Si parla dello smoke che fa la contaminazione, ma anche c'è uno smoke di corruzione nella società. preghiamo per i corrotti, poveretti che trovano la uscita di quel carcere nel quale loro hanno voluto entrare.